Musica Per tutti ragazzi sono sempre io e oggi sono qui per reagire a un video in particolare Come sapete ultimamente è uscito lo YouTube Rewind Quello schifo di YouTube Rewind Meglio non parlarne Perché ho citato YouTube Rewind? Perché nella mia ricerca sul web ho trovato YouTube Rewind Italia 2019 Di Davis613 E niente oggi reagiremo a questo video Vediamo un po' se è meglio del classico YouTube Rewind O di quello schifo di quest'anno Vai iniziamo bene 16 milioni di dislike Perché c'è il tipo di GTA CJ Già iniziamo bene col Joker Nooo Lexi ti ricordi anche tu dalla vicenda di Stepney che non pagava le tasse T-Series E PewDiePie che festeggia ovviamente Madonna la sfida tra PewDiePie e T-Series E uno di tra l'altro di meme Nooo la meme di Joker Tutti noi ragazzi una volta ci saremo chiesti come fossero i giocatori senza denti Madonna è pieno di meme sto video Che cacchio Perché c'è un Pikachu che balla Ovviamente può mancare Può mancare quello schifo che hanno fatto Oddio Perché no Smash Bros Ok Marvel Oddio sta meme Oh sta challenge Ecco il chion Potrà mancare lui Riccardo Top adoro sto video Dai Riccardo Solo lui merita 100 like Baby Yoda ovviamente Roba recente La legge coppa Merica Veramente Che cacchio Ah va a busta tipo che piange per tutto Bad guy Poteva mancare Un'altra meme storica PewDiePie Sto tipo non so chi è Che cacchio Ah si era successo qualcosa con Hong Kong Non mi ricordo che cavolo era successo L'area 51 raga Questa è stata uno dei momenti storici di quest'anno Mamma me l'invasione all'area 51 Perché Thanos Troppo bello sto video Ah vabbè Ma che cacchio Perché Tony Stark Che vado E' bello Oh il matrimonio tra PewDiePie Eh non mi ricordo come si chiama Vabbè questo è stato uno dei momenti alti Questo ci sta Ci sta Posso dire che è molto meglio questo Oh bellissimo Perché Perché il suono di Windows 98 poi Adoro Uh tutte le persone morte quest'anno Non sapevo che alcuni Ne erano morti Compresi il gatto Non lo sapevo Rip per il gatto Devo dire Molto meglio questo Di altri YouTube Rewind Che ho visto Vediamo se ci sono altri YouTube Rewind italiani Guardiamo queste invece Che dell'anno scorso Vediamo un po' che figato è uscita Sicuramente sarà molto Ma molto meglio Di quello che hanno fatto l'anno scorso Bene Iniziamo bene Inizia come una specie di poop Ma è una poop Eccolo Iniziamo bene con gli otobi Benvenuti ad una nuova puntata Del late show con Karim Musa Tell me about 2017 Succedono troppe cose Cose a caso Dai che mo' inizia il bello Pronto pronto Non credo che lo ci voglia tantissimo Perché? Pronto 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 Che cazzo è la lesbica La lesbica Non sto capendo Non sto capendo Eh beh potevo mancare Perché c'è un Klaus Marco Merrino I mates Ciccio Merrino Questa è la lesbica Questa è la lesbica Lotta tra Ciccio Merrino e Marco Merrino Lotta tra fratelli So cosa fare adesso Perché c'è lui il maestro Bene questo era un breve YouTube Rewind del 2018 Non era il massimo ma va bene Questa era la reaction YouTube Rewind di italiani Spero che vi sia piaciuto Lasciate un bellissimo like Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram Ve l'impiallo qui Anche su altri social ovviamente Link in descrizione E niente Noi ci si vede Alla prossima